Ciao a tutti e bentornati su MTV Innanzitutto si ho un felpone largo che non è mio è di Daniele e a proposito c'è un Lele strabaccato da qualche parte qui dietro Lele alzati dall'oltre tomba eccolo comunque nel video di oggi a grande richiesta vi mostrerò cosa c'è nel mio iPhone a della verità questa tipologia di video l'avevo già filmata all'inizio della mia carriera YouTube diciamo però recentemente molti di voi mi hanno chiesto di farne una seconda versione aggiornata e quindi eccomi qua il mio cellulare è un iPhone 5S oro innanzitutto questo è il blocco schermo che è una foto mia e del mio ragazzo elettrica che è la che uso per farmi i selfie e quindi si a questo punto beh c'è la musica che come sapete è una parte abbastanza importante per me però in realtà la maggior parte delle canzoni che ascolto non sono qui ma su Spotify perché il mio cellulare è sempre pienissimo e quindi non ho mai spazio per tenere molte canzoni sopra il cellulare countdown c'è sempre un qualche conto alla rovescia sul mio cellulare sono una persona che attende con molta impazienza gli eventi quindi diciamo avere un conto alla rovescia mi fa sentire come se quel momento fosse più vicino anche se in realtà non è assolutamente così infatti per esempio in questo momento c'è il conto alla rovescia per l'estate che è il momento che sto aspettando di gran lunga con più entusiasmo foto ovviamente ne ho sempre tantissime fin troppe riempiono la maggior parte della memoria del mio cellulare ed è un problema ne faccio fin troppe davvero davvero tante e non dovrei ma è così e tra l'altro c'è l'album delle foto del giorno in cui praticamente inserisco una foto fatta ogni giorno e lo sto facendo dall'inizio di quest'estate quindi sono ormai quasi 300 giorni che lo faccio però è una cosa che mi piace tantissimo perché mi permette un po' di ricordarmi il giorno e insomma l'anno un po' nel suo complesso quindi mi piace molto come cosa il meteo niente di interessante abbastanza basic come casa a proposito dovrebbe esserci sole ma insomma comunque l'orologio con tutte le mie sveglie quella impostata alle 6 e 15 purtroppo ogni mattina che vorrei che non ci fosse però tante belle sveglie il mio calendario io sono incredibilmente smemorata quindi senza questo calendario la mia vita sarebbe un disastro fondamentale alla mia esistenza twitter in realtà non è un app che uso spessissimo però mi piace molto usarla quando posso per comunicare con voi mi mandate sempre tanti tanti tweet io cerco di di rispondervi il più possibile o almeno di mettere i miei piace o insomma ritwittarli e se vi interessa seguirmi il mio username è mtv youtube però diciamo che non è proprio il mio social preferito instagram ecco questo invece si che è uno di miei social preferiti in assoluto qui il mio username è emma.mezzadri se vi interessa linguaggio della fotografia è il linguaggio che mi piace di più usare dopo quello dei video come poteste immaginare forse e poi adoro tantissimo guardare la sezione delle foto in cui mi taggate perché mi taggate sempre in tante foto carine e tante fan art carine e si taggono tanto dolcine e mi scrivete davvero in tantissime mi dispiace un sacco che non posso rispondere tutte ma faccio il possibile considerato che sono una persona sola e che un giorno ha solo 24 ore purtroppo c'è una cartella che si chiama Puzzo non l'ho chiamata così l'ha chiamata così un amico di Lel quindi vabbè mi sono dimenticata di cambiare il nome dettagli Wunderlist dove tengo tutte le mie liste di cose da fare tipo i viaggi da fare almeno una volta nella vita e cose del genere sono una persona che scrive molte liste molte cose sempre per lo stesso motivo di prima cioè che sono spiagolata un altro dei miei social preferiti è sicuramente Snapchat lo adoro alla follia e lo uso spessissimo per mettermi in imbarazzo davanti a tutti voi facendo o al naturale senza bisogno di effetti o niente tipo così è proprio il mio talento naturale oppure grazie a lei uso dei magnifici effetti di Snapchat che sono epici tipo sono Batman ho sempre sognato di essere matto ma ragazzi sono commossa oppure magnifici effetti come questa o questo oppure questo oppure questo la sexaggine questo è altamente inquietante oh mio dio credo che ero lì in questa notte che cos'è sta cosa comunque si mi sto ciao Lele mi sto un tantino perdendo Snapchat è una droga che bella Lele vieni qui a scambiare faccia con me no e Lele vieni qui assolutamente Lele vieni qui non puoi rifiutare questa opportunità devo farla faccia un po' più un po' più da Emma è un misto è un misto meglio così guarda meglio così ok comunque mi sono un po' un attimo persa e se vi interessa qui il mio username è emi emi 098 certa gente che disturba i miei video disturba insieme stai molto bene tolgo disturbo bravo torno a dormire Pinterest anche questa è un'app che uso tantissimo è un sito che adoro per trovare idee di qualsiasi cosa di DIY di trucchi anche semplicemente cibo ricette frasi poetiche frasi divertenti insomma veramente un po' di tutto ed è davvero un sito su cui passerei le ore vabbè youtube è abbastanza ovvio stiamo parlando proprio qui su grazie a questa piattaforma quindi sarebbe abbastanza assurdo se non l'avessi smicciolare perché fa parte della mia vita quotidiana facebook non lo uso tantissimo però comunque è a volte mi utile runtastic è un app che uso molto spesso per tracciare il mio percorso quanto tempo corro la velocità media insomma queste cose qui la uso tantissimo spotify come vi dicevo prima è qui che ascolto la maggior parte della mia musica hanno delle playlist adatte più o meno ogni umore ogni situazione che adoro e poi c'è la possibilità di fare playlist personali insomma delle proprie canzoni preferite quindi decisamente indispensabile alla mia esistenza periscope che non ho ancora capito come funziona l'ho creato tipo ieri cercherò di capirci qualcosa giallo zafferano è la mia fonte di ricette le ricette che propone sono davvero buonissime non ho mai avuto indicazioni sbagliate che mi hanno fatto incendiare tutta la casa quindi per me questo è già un successo e quindi la uso spesso per cercare ispirazioni per qualche ricetta obbligo verità è semplicemente il classico gioco di obbligo verità ovviamente nella barra in basso allo schermo ci sono tutte le app che uso più spesso quindi messaggi telefono whatsapp e l'app per gli youtube creators dove vedo sempre i vostri commenti e insomma mi occupo di tutte queste cose un po' più organizzative che riguardano youtube e i miei video e poi infine ultima cosa ho questo collegamento a un sito web che diciamo appare come un'app ma non è veramente un'app è semplicemente il collegamento al sito web dove posso vedere il numero dei miei iscritti quindi ho il collegamento diretto così un po' più veloce diciamo da usare e infine questa è l'immagine che ho come sfondo che è una in cui ci sono io con alcune delle mie migliere amiche cioè lucia rachele e mary questo è tutto per oggi spero che questo video vi sia piaciuto magari vi abbia dato qualche consiglio su qualche app da scaricare spero abbia semplicemente soddisfatto la vostra curiosità voi fai altra cosa io sembra un fungo si un fungo bellissimo tral attro volevamo dirvi un'ultima cosa mi hanno rubato i capelli comunque prossimamente prestissimissimi prestissimi molti di voi ci hanno chiesto di filmare insieme un ask me però appunto in versione ask us cioè un video in cui rispondiamo insieme le vostre domande che potreste avere rivolte o a uno di noi due oppure a noi due come coppia quindi se avete delle domande da farci potete scriverceli qui sotto nei commenti oppure mandarceli su qualsiasi altro social con l'hashtag AskDanima giusto? yep Danima il nostro ship name aspettiamo le vostre domande che sa questa cosa? no scusa ma io che puoi ridere di me? di Emma sono i servizi se il video vi piaciuto mettete un bell pollici in su, iscrivetevi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video iscrivetevi anche al mio secondo canale se vi interessa seguire un po' più della mia vita quotidiana e qui nell'info box trovate i link a tutti i miei social shusham iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale